Ciao, io sono Angelo e ti do il benvenuto o benvenuta all'interno del mio canale. Qui troverai una serie di video che ti informeranno a 360 gradi sul benessere e che ti renderanno anche autonomo nella risoluzione di alcune problematiche. Troverai esercizi di stretching, esercizi di respirazione, parleremo di patologie e parleremo anche delle possibili connessioni tra una determinata sintomatologia e la sua causa. Essendo un osteopata, all'interno dei video potresti trovare anche delle piccole dimostrazioni di trattamento per le risoluzioni di alcune problematiche. Se volessi rimanere sempre aggiornato sulle uscite dei video, ti consiglio di iscriverti al canale. Con questo ti saluto e a presto, ci vediamo all'interno dei video. Ciao!